Oggi andiamo direttamente nel cuore della Basilica, perché andiamo nella cappella maggiore della Basilica di Santa Maria Novella e come accennava appunto il collega Lorenzo Valloriani, lo facciamo anche e perché siamo nel giorno 23 giugno, il giorno che precede appunto la festa patronale di San Giovanni Battista per Firenze e per altre città. Io direi di cominciare subito appunto la nostra condivisione schermo e così iniziamo. Scusate, vediamo se... eccoci. Dovreste vedere tutto abbastanza bene, spero. Lorenzo confermi? Sì, vedo, si vede bene. Bene, allora siamo appunto in piazza Santa Maria Novella, in questa magnifica piazza che appunto con la sua facciata, con la facciata della Basilica ci apre a un mondo nuovo, a un mondo che non è un mondo diverso dal nostro essere uomini, ma che intreccia il nostro essere uomini, essere nel tempo e nella storia con il nostro anelito all'immortalità, all'eternità, al divino e al sacro. Premessa d'obbligo è che naturalmente come in Palazzo Vecchio parliamo di politica ducale, granducale, statale, territoriale, in Santa Maria Novella è necessario parlare di teologia, di sacre scritture, di quello che è il messaggio sotteso alle figure, alle rappresentazioni, alle arti visive che hanno dato voce al messaggio teologico. Questo non per predicare come facevano effettivamente i frati dominicani in Santa Maria Novella, naturalmente non per spirito confessionale, ma per aderenza alla verità, con la V maiuscola, in senso appunto sacro e letterale, perché di questo ci parla il convento di Santa Maria Novella. Entriamo quindi nel convento, in particolare entriamo nella Basilica. Una basilica maestosa, come avete modo di vedere da questa immagine, e chi è di Firenze o chi è venuto a Firenze ha potuto ammirarla dal vivo, peraltro già aperta alla liturgia in questi giorni, non ancora, ma ci auguriamo presto al pubblico in visita appunto al complesso museale. Una basilica che era molto diversa al tempo del nostro Giovanni Tornabuoni e del nostro Domenico Ghirlandaio, perché innanzitutto aveva un tramezzo, vero e proprio ponte, profondo, pensate, quasi 8 metri, alto quasi 5, quindi davvero una macchina architettonica che davvero divideva lo spazio della basilica a metà. Da una parte l'aula, lo spazio appunto, l'area per i fedeli, dall'altra lo spazio per i frati dominicani che ricordiamo appunto abitavano a questo convento. Qui vediamo infatti proprio sulla sinistra anche il pulpito per la predicazione, perché siamo proprio nello spazio dei fedeli e dove ora, all'incirca, ci sono quei due gradini, entravamo nello spazio sacro. Avviciniamoci quindi verso l'altare maggiore, che vediamo oggi ottocentesco, frutto appunto dell'ultimo, diciamo, grande intervento di restauro, ripristino, rinnovamento della chiesa dovuto all'architetto Romoli e alle spalle di questo altare maggiore abbiamo appunto la cappella maggiore. Capite che la cappella maggiore della basilica di Santa Maria Novella doveva racchiudere proprio il distillato, diciamo, del messaggio teologico che i domenicani volevano raccontare e trasmettere in primis a loro stessi e in secundi sei fedeli. Ricordo che il motto dei domenicani, se motto si può definire appunto, una delle frasi più celebre di San Tommaso era contemplari e contemplata alistradere, cioè contemplare la verità divina e poi trasmettere, tradere, portare agli altri ciò che è stato contemplato. E da qui appunto proprio lo spirito di predicazione e di condivisione semplice, se vogliamo, nella speculazione dotta dei domenicani. Entriamo quindi nella cappella maggiore, in questo davvero saccello sacro che naturalmente appunto era riservato ai frati dominicani e visibile solo in alcuni momenti. Queste sono foto naturalmente odierne, infatti vediamo un modalone successivo, mentre vediamo ancora gli stalli linei nei quali appunto sostavano i frati in preghiera, in canto, più volte al giorno appunto in cappella e che sono stati realizzati appunto sul finire del Quattrocento da Baccio D'Agnolo. Oggi però non guardiamo l'intera cappella, questo perché? Perché Santa Maria Novella meriterebbe un giorno e una settimana e un mese intero di visita e per assaporarla e gustarla al meglio ci concentriamo solo su una delle pareti della cappella e in particolare ci concentriamo sulla parete di destra che ci racconta le storie di San Giovanni Battista in occasione appunto di questa ricorrenza. Perché dico questo perché mi auguro che nei prossimi appuntamenti, che siano virtuali o davvero, avremo modo di approfondire gli altri racconti di questa cappella e delle altre cappelle. Siamo appunto sul finire del Quattrocento, nell'età d'oro di Firenze, in particolare siamo nel 1485 e Giovanni Tornabuoni, ricco, notabile fiorentino, affiliato alla Casa Medici e rappresentante responsabile del Banco Medici a Roma, nonché tesoriere di Papa Sisto IV, ottiene l'ambizioso privilegio di poter decorare appunto la cappella maggiore di Santa Maria Novella. La cappella aveva già una sua decorazione, opera di Andrea Orcagna, con storie sicuramente di Maria, in quanto Maria è colei a cui è dedicata l'intera chiesa, forse non è certo anche già di San Giovanni Battista o appunto San Giovanni Battista, quale inserimento, novità, del nuovo ciclo figurativo commissionato da Giovanni Tornabuoni. Dicevamo, la cappella aveva già un ciclo decorativo presente, alquanto alterato per una serie di infiltrazioni dal tetto, che necessitava quindi di un ammodernamento, come spesso appunto accadeva. Il patronato della cappella maggiore era conteso e condiviso, diciamo così, da tre famiglie. Da una parte i Tornabuoni, che nel Trecento si chiamavano ancora Tornaquinci e che muteranno appunto il loro cognome quando verrà impedito alle famiglie magnetizie, alle famiglie nobili di prendere il potere, quindi pur diciamo di assumere cariche appunto all'interno della città e quindi pur di restare diciamo nell'orbita governativa fiorentina, accetteranno appunto di buon grado di rinunciare al loro titolo e cambieranno appunto il loro nome da Tornacquinci a Tornabuoni, assumendo sul leone rampante, che è il loro simbolo, lo scudetto del popolo fiorentino. Quindi patronato della cappella era conteso tra la famiglia Tornacquinci prima, Tornabuoni poi, la famiglia Ricci che aveva il patronato appunto sull'altar maggiore, anzi scusate, su una parte diciamo dei paramenti e la famiglia Sassetti che aveva invece il patronato sull'altar maggiore. Famiglia Sassetti che in maniera decisamente non gradita appunto viene scavalcata dalla famiglia Tornabuoni per una questione diciamo prettamente economica e di disponibilità, così come rispetto alla famiglia Ricci che non poteva permettersi un ripristino totale della cappella e che avrebbe peraltro voluto la famiglia Sassetti decorare la cappella maggiore con le storie di San Francesco. Voi capite che essendo all'interno di una basilica del cuore del saccello domenicano, gli stessi frati domenicani avevano suggerito a Francesco Sassetti, alla famiglia Sassetti, di rivolgersi a Santa Croce, quindi chiesa francescana per eccellenza e poi sappiamo che Francesco Sassetti approderà nella chiesa Vallombrosana di Santa Trinita. Proprio in questa chiesa e proprio nella cappella Sassetti all'opera c'è un pittore ormai divenuto estremamente celebre che si chiama Domenico Ghirlandaio. Domenico Bigordi in realtà è il suo cognome già chiamato dal padre Ghirlandaio, come viene detto a Firenze perché appunto fa autore di una fiorente bottega di realizzazione di queste ghirlande eleganti e raffinate di cui amavano ornarsi le gentildonne fiorentine. Domenico Ghirlandaio ha quindi dipinto con maestria la cappella Sassetti in Santa Trinita, ha appena terminato peraltro anche un affresco a Palazzo Vecchio, nella odierna Sala dei Gigli, è già stato due volte a Roma dove ha lavorato prima per Giovanni Tornabuoni a Santa Maria sopra Minerva e poi addirittura alla Sistina dove peraltro compare anche un ritratto di Giovanni Tornabuoni che ricordiamo era a Roma per conto sia dei Medici sia del Papa e quindi ottiene questo ambizioso incarico. Il contratto è un contratto del 1485 e viene stilato appunto dal nostro magnifico e generoso come viene detto dai frati dominicani Giovanni Tornabuoni. Lo vediamo qui il nostro Giovanni Tornabuoni, lo vediamo naturalmente in veste di fedele diciamo così appunto e quindi inginocchiato devo vedere se riuscivo ecco a ingrandire inginocchiato su quella che è un'architettura che già da subito ci ricorda un impianto nuovo perché se siamo nel cuore della Basilica Domenicana la storia che viene narrata e verrà narrata da Domenico Ghirlandaio, dai suoi fratelli e dalla sua bottega è una storia che intreccia sacro e profano. È una storia che celebra sì San Giovanni Battista e la Vergine come vedremo ma che soprattutto e anche celebra la disponibilità, la storia e la celebrità della famiglia Tornabuoni. E come vedete appunto una quinta già tipicamente rinascimentale è quella in cui appunto il nostro Giovanni inginocchiato e pur fedele committente si trova. Così come dall'altra parte, qui siamo nella parete di fondo, vediamo sua moglie Francesca Pitti, figlia del celebre Luca Pitti, anche ella inginocchiata, già morta, già defunta, era morta a Roma qualche anno prima, ormai nel 1477, forse appunto per questo anche vedete estremamente pallida in volto, anche ella diciamo inginocchiata all'interno di questa architettura magnifica con uno sfondo che vedete ci regala sempre dettagli cortesi e rinascimentali insieme perché il paesaggio è già ampio, come dire sereno e luminoso come quello poi del pennello del Kirlandaio ma appunto con piccoli inserti di architetture quasi nordiche e sappiamo quanto l'influsso di Roger Vardewainen non solo fosse importante per gli artisti di questo periodo e questo gruppetto di cavalieri e di uomo appunto appiedato che percorrono questa strada verso i monti. Committenti sono quindi appunto Giovanni Tornabuoni e Francesca Pitti e tutta la decorazione è opera, come dicevamo, di Domenico Ghirlandaio e della sua bottega. Domenico Ghirlandaio, dicevamo appunto figlio di un valente orafo e in particolare appunto abile nella realizzazione di Ghirlandaio e non è un unico figlio perché ha diversi fratelli e sarà a lavoro proprio all'interno di questa cappella con il fratello Davide Benedetto e suo cognato perché sua sorella sposerà Sebastiano Mainardi. Conosciuto a San Gimignano perché Domenico Ghirlandaio nella sua ormai celebre illustre carriera era anche andato a dipingere le scene di Santa Fina a San Gimignano. Nella parete di sinistra vengono affrescate le storie di Maria, nella parete destra vengono affrescate le storie di San Giovanni. Sulla volta abbiamo invece i quattro evangelisti. Abbiamo San Giovanni, abbiamo San Luca, abbiamo San Marco e abbiamo San Matteo. Perché cominciamo dalla volta? Perché come accennavamo il messaggio teologico, un messaggio stringente che pur intrecciandosi alla vita secolare dell'età d'oro fiorentina non deve naturalmente eccepire rispetto a quello che è un messaggio religioso importantissimo. E i quattro evangelisti che come vedremo sono i pilastri su cui si fonda la narrazione anche di San Giovanni, centrano e fondano appunto tutta la narrazione della cappella. In più, come vedete, torniamo indietro, i quattro evangelisti sono, come dire, rappresentati nel loro, accompagnati dai loro simboli, ovvero l'aquila per San Giovanni, la vedete lì accanto, il toro per San Luca, il leone per San Marco e l'angelo, l'uomo alato, diciamo così, per San Matteo. Questi sono i simboli del cosiddetto tetramorfo che dall'età medievale in poi saranno appunto suddivisi e distinti per i singoli quattro evangelisti ma che in origine erano un tutt'uno ed erano i quattro simboli del mistero di Gesù. Ci viene in soccorso un'iscrizione latina di Pietro da Capua che ci dice Gesù fu, omo nascendo, vitulus vitello moriendo, leo leone resurgendo, aquila ascendendo, l'aquila ascendendo al cielo. Questo è il mistero della natura di Gesù, una natura che è profondamente ed essenzialmente divina e umana al tempo stesso. E perché questo è importante ed è così importante? Perché, lo ricordiamo, per chi avesse seguito la lezione dell'altra volta, la visita dell'altra volta già era stato accennato, i Domenicani combattono, nascono per combattere in particolare l'eresia catara, catara, che nega sostanzialmente la divinità e l'umanità di Gesù in un'unica creatura, ovvero sostengono i catari, una dualità tra l'essere Dio e l'essere uomo, cosa che i cattolici, i cristiani e appunto gli ortodossi, diciamo così, invece asseriscono e ribadiscono. Voi capite che quindi se in volta abbiamo i quattro evangelisti è per rimarcare, risottolineare la natura profondamente umana e divina di Gesù e che infatti vede in Maria e in Giovanni i due perfetti simboli. Giovanni, come vedremo, precursore di Gesù, ultimo profeta, e Maria, saccello sacro nella quale appunto si incarnerà Gesù stesso. Il mistero dell'incarnazione è uno dei misteri centrali per la predicazione dominicana. Gesù si è incarnato in Maria. Maria è vera donna e non angelo, altro diciamo dogma contestato dai catari. Ed ecco che cominciamo la storia di San Giovanni. Giovanni Battista vede appunto la sua narrazione sulla parete destra, mentre le storie di Maria, che in una prossima occasione vedremo, si dispiegano sulla parete sinistra. E sono sette le storie grazie a cui noi ripercorriamo la vita di Giovanni. Cominciando da quando Giovanni ancora non c'è. Siamo appunto con suo padre e suo padre, che era un sacerdote della stirpe di Aronne, lo vedete qui nel centro, ingrandisco, cerco anche di scendere, sacerdote della stirpe di Aronne, dal suo paese natale si è recato, che era pochi chilometri da Gerusalemme, si reca al Tempio di Gerusalemme per offrire l'incenso. E lo vedete che infatti è proprio nell'atto di offrire sul sacro altare, su questa ricchissima ara con rilievi appunto anticheggianti, l'incenso. Si intravede anche sicut incenso mic nell'iscrizione latina dell'abside, che naturalmente non può essere, come dire, non rivestito di ricchissimi apparati marmorei. Ecco che mentre è intento in questa operazione, naturalmente è riccamente vestito, lo vedete, ma scalzo e nudo ai piedi, come già appunto il messaggio biblico aveva raccomandato nell'accedere, diciamo, al Sacro Tempio, viene interrotto da un angelo. Non è un angelo qualunque, in particolare è l'arcangelo Gabriele, che vedete ha addirittura la veste ancora mossa dal vento, arriva con il suo volto lieto e ridente, perché sta portando un lieto annuncio, una veste che naturalmente indugge già, diciamo, e occhieggia alla moda quattrocentesca nei tagli, per esempio, delle maniche, e con il dito proprio levato al cielo lo interrompe annunciandogli che lui, vecchio sacerdote, e sua moglie Elisabetta, ormai in età avanzata e avanti negli anni, come ci dice il Vangelo, avranno un figlio e dovranno imporgli il nome Giovanni. All'annuncio lieto e ridente di questo arcangelo, che vedete il nostro Domenico Ghirlandaio, a cui si attribuiscono in particolare proprio le scene inferiori, anche se sappiamo appunto essere un'opera appunto collettiva e corale, e mai come qui appunto maestro, allievo e maestro e fratelli si intrecciano, corrisponde invece lo sguardo dubitoso e dubitante di Zaccaria. Vedremo che infatti la risposta di Zaccaria sarà ma come è possibile? Io sono ormai appunto vecchio e canuto, mia moglie è avanti negli anni, non è questo, diciamo, per noi non è veramente possibile. A questo dubbio, a questa incredulità di Zaccaria, l'arcangelo risponderà ammuttolendolo e quindi dichiarandolo muto e promettendogli la parola nuovamente quando questo verbo avrà avuto compimento, ovvero quando Giovanni sarà nato. Questo è il racconto evangelico, racconto che quindi ci suggerisce la venuta di Giovanni, ma vedete che il nostro Domenico Ghirlandaio inquadra la scena in quella che è un'ambientazione non più biblica, non più della terra promessa, non più del Santo Tempio di Gerusalemme. L'arco trionfale che inquadra l'abside è circondato da rilievi, anche qui vedete classicheggianti, con appunto scene di guerra o scene militanti. Si intravedono archi trionfali sullo sfondo e quinte appunto sfondate, appunto e aperte, ormai con la sapiente prospettiva ormai davvero acquisita e padroneggiata pienamente, e uno suolo di figure che non sono certo sacerdoti di Gerusalemme, circondano la scena. Chi sono? Beh, sopra i due gradini del Tempio hanno diritto di sostare solo i, davvero i principali protagonisti di questa narrazione, ovvero Giovanni Tornabuoni, Leonardo Tornabuoni e poi appunto Populeschi e Giacinotti. Cioè i quattro che noi vediamo qui, il cui primo appunto è proprio Giovanni Tornabuoni, ammantati naturalmente del lucco, diciamo quindi di un abito estremamente cerimonioso, appunto, sono i protagonisti della committenza e della Firenze del Tardo Quattrocento. Appena sotto lo spazio del Tempio, lo spazio sacro appunto in cui si sta svolgendo la cerimonia, vediamo altre figure e qui vediamo, spostandoci, scusate, cerco di aiuto, scusate, ritorno. E qui vediamo appunto altri rappresentanti della famiglia Tornabuoni, li vediamo qui sulla destra. In angolo questi tre personaggi sono invece parenti del Banco Medici, per così dire, quindi affiliati del Banco Medici, mentre dall'altra parte abbiamo questi tre personaggi che sono anch'essi appunto esponenti Tornabuoni, un prete di San Lorenzo, questo di cui vediamo appunto con il copricapo nero, Benedetto Dei che si intravede dietro questo arco a Lacunari e questi quattro personaggi che appunto anch'essi sono ammantati il lucco, ci rappresentano invece il gota, il meglio dell'Accademia Platonica. E quindi abbiamo, proprio partendo da sinistra, Marsiglio Ficino, il Landino, Cristofalo Landino, questo signore con la mano alzata è agnolo poliziano e quest'ultimo è Gentile De Becchi, precettore di Lorenzo il Magnifico e di Giuliano, dei Medici. Non dimentichiamo appunto che siamo tra il 1485, anno del contratto, i lavori cominciano nel 1486 e si concludono nel 1490. Sono gli anni davvero di Acme dell'età d'oro fiorentina. Nel 1492 noi sappiamo che morirà Lorenzo il Magnifico, poi avremo la discesa di Carlo VIII, poi il Savonarola e un'età avrà visto la sua conclusione. E non è un caso che quindi sull'arco di trionfo di destra, vorrei riuscire ad avvicinarmi per mostrarlo, è inutile dire che tutto questo davvero è molto meno leggibile. Intravediamo, vedete, un'iscrizione proprio in pietra latina in cui vediamo appunto l'anno di conclusione dei lavori, l'anno 1490, è un'iscrizione che ci dice in latino le seguenti parole «Quopul carri macivitas, opibus victoris artibus, edificisque nobilis, copia salubritate, pace per fruebato». Ovvero la città è ormai città bellissima, si sta parlando di Firenze, è celebre per i suoi monumenti, per le sue vittorie, per le sue attività e per i suoi nobili edifici ed è abbondante di salubritate, di buona salute e di pace e di abbondanza. Quindi vedete davvero un inno alla Firenze del tardo 400. Messaggio ben chiaro, intrecciato alla storia appunto dell'arrivo di San Giovanni, che infatti ritroviamo anche nella seconda scena. Scena celeberrima, quella della visitazione all'incredulità di Zaccaria, corrisponde anche l'incredulità di Elisabetta e, diciamo poco dopo, un'incredulità meno dubbiosa che quella di Maria, perché lo stesso Arcangelo Gabriele, come sappiamo, annuncerà a Maria che porterà nel grembo Gesù. Maria, nello stesso annuncio, viene dotta del fatto che l'anziana Elisabetta, cugina, è incinta anche ella e quindi si reca a trovarla. E questo è il celebre incontro tra le due gestanti. Vediamo appunto sia Maria sia Elisabetta in primo piano, affiancate appunto da due gentildonne, diciamo alle spalle di Elisabetta e, andiamo sul particolare, intravediamo sullo stesso piano proprio di Elisabetta e di Maria un'altra signora riccamente abbigliata, che è questa signora vestita di una gamurra ricchissimo broccato, che vedete tiene un fazzoletto tra le mani, che è Giovanna degli Albizi. Giovanna degli Albizi, anche ella con il ventre prominente, aspettava, si era sposata con il figlio di Giovanni Tornabuoni, Lorenzo, aspettava proprio mentre gli affreschi erano in corso di realizzazione, quello che nascerà poi con il nome di Giovanni Giovannino, quindi chiamato Giovannino. E naturalmente viene posta, diciamo, allo stesso livello delle due sacre figure in attesa. Giovanna degli Albizi, altro matrimonio strategico, come avremo modo di vedere con l'alleanza Tornabuoni medici, appunto, perché appunto segna l'alleanza da Tornabuoni e Albizi. Giovanna degli Albizi, dicevamo appunto, in attesa durante questo affresco e poco dopo, nel 1488, in realtà morirà di parto con la secondo, diciamo, attesa del secondo figlio, morirà. Quindi anche questo, diciamo, come ricordo, appunto, segno, diciamo, dell'attesa di Giovanna, ma anche ricordo della appena defunta nuora di Giovanni Tornabuoni. La scena biblica non soltanto è connotata di personaggio, appunto, della Firenze di Rinascimento, ma si svolge entro la Firenze di Rinascimento. Vedete l'abilità prospettica davvero di rappresentarci questo muro in scorcio. vedete una delle porte cittadine, che ancora abbiamo modo di apprezzare, con due personaggi che stanno salendo, sembra davvero appunto, come Porta San Giorgio, per esempio, stanno salendo oltre le mura cittadine. Intravediamo un'altra porta in una Firenze, appunto, simbolica, una Firenze che ritroviamo, anch'essa in forma simbolica, più sulla destra. Questo è in forma, appunto, e cheggia il campanile di Santa Maria Novella. Questo che spunta, diciamo, dal muro con un artificio proprio, diciamo, al di là della linea visiva è la torre di Palazzo della Signoria. E si intravede, appunto, anche la stessa Santa Maria Novella e il Martirreno che, appunto, si scorge sullo sfondo. Con queste figure che, vedete, sembrano incuranti della scena sacra che si sta svolgendo in primo piano e invece si affacciano da questo muro per vedere oltre. Quindi davvero un intreccio sapientissimo tra sacralità e mondanità, diremmo, tra contemporaneità, attualità e l'eternità della storia sacra e il mistero dell'incarnazione che sta prendendo corpo. Ecco che, dopo, appunto, la visitazione nasce, nel tempo giusto, San Giovanni Battista. Nasce il 24 giugno. Avremo modo di rivederlo. Perché? Perché sappiamo che quando viene annunciata a Maria che avrà, diciamo, Gesù, l'angelo le dice che Elisabetta è già al sesto mese. Quindi voi capite che se Gesù nasce il 25 di dicembre, necessariamente Giovanni doveva nascere sei mesi prima. Ed eccolo qui, il piccolo Giovanni, in una meravigliosa camera e stanza rinascimentale, come vedete, in cui vediamo un bellissimo soffitto scorciato a cassettoni, un letto con spalliera in legno estremamente ricco. La ormai anziana, appunto, madre ha partorito. Accanto abbiamo un inserviente che le sta porgendo acqua e vino. Sullo sfondo vedete una, diciamo, un paramento da razzo, un paramento, un tendaggio che protegge sia la parete, sia, come vedete, abbiamo anche modo di apprezzare il paramento, la portiera, diciamo, il paramento che rivestiva le porte. Però vedete che Elisabetta, al contrario appunto di quanto si potrebbe pensare, non rivolge lo sguardo verso il piccolo Giovanni che è già affidato alle cure delle baglie. Vedete, viene allattato dalle baglie, c'è quest'altra appunto baglia con il bacile pronta ad accogliere il piccolo Gesù. Vedete altri bacili si trovano sullo sfondo, così come vediamo sulla spalliera del letto due melograni, un altro vaso. Quindi davvero sono inserti di vita quotidiana del rinascimento. La nostra Elisabetta non sta guardando il suo figlio appena nato, sta guardando qualcun altro, sta guardando questa giovane signora, anche ella riccamente abbigliata, che è Lucrezia Tornabuoni. Lucrezia Tornabuoni, sorella di Giovanni Tornabuoni, morta nel 1482 e diciamo icona della famiglia perché imposa di Piero De Medici e madre di Lorenzo il Magnifico e non solo di cinque figli. Lucrezia è già morta quindi da qualche anno e le viene reso un eterno omaggio proprio nella nascita di Giovanni Battista. Lucrezia ci guarda, appunto guarda verso di noi, come vedete anche le baglie guardano verso di lei, non soltanto Elisabetta, ed è accompagnata da altre due giovani, mentre sullo sfondo intravediamo questi veli davvero svolazzanti e leziosi che sono tipici appunto proprio di queste narrazioni, un'altra inserviente che sta portando un bacile ricolmo di frutta ricca appunto a ristoro della madre e che appunto invece rivolge lo sguardo verso di lei con altre fiasche appunto tra le mani. Il piccolo Giovanni è nato e come sappiamo il suo destino sarà decisamente, guardiamo intanto osserviamo appunto di nuovo in particolare, il suo destino sarà decisamente grandioso perché? Perché appunto sappiamo essere l'ultimo profeta precursore di Gesù, Cristo. Ecco che non appena nato, anzi otto giorni dopo, viene portato al Tempio per il sacro rito della circoncisione e l'imposizione del nome. Il nostro piccolo è in fasce nelle mani di Elisabetta e vedete che il nostro Zaccaria non sta parlando come gli viene richiesto, vedete abbiamo tutta una serie di figure appunto sacerdotali che gli sono intorno perché, non so se ricordate, l'abbiamo accennato, l'arcangelo Gabriele a fronte della sua incredulità lo ha reso muto e diciamo gli concede di tornare a parlare soltanto dopo aver imposto il nome. Ecco che Elisabetta alla domanda di quale nome vorranno imporre al piccolo dice il suo nome sarà Giovanni e i sacerdoti vedete sono increduli e chiedono a Zaccaria una conferma anche perché naturalmente la conferma era paterna e non certo materna. Zaccaria che non può parlare allora scrive appunto su questa tavoletta il suo nome sarà Giovanni, Giovanni che in ebraico significa il Signore ha fatto la grazia. Ecco che non appena Zaccaria avrà scritto questo sulla sua tavoletta potrà naturalmente tornare a proferire parola e da qui si aprirà il meraviglioso cantico di Zaccaria, il Benedictus in cui appunto benedice il popolo di Israele e la redenzione del popolo a opera di chi verrà dopo. Quindi vedete scena sacra, scena che davvero è fedele in ogni dettaglio al testo testamentario, appunto al testo sacro ma che non può non svolgersi in una quinta classicheggiante, anzi classicissima diciamo, che si apre su uno sfondo luminosissimo, terzo, eterno che ci parla appunto di uno sguardo senza fine e che allude davvero a questo meraviglioso cantico di Zaccaria. Il bimbo cresce, diventa ragazzo, diventa uomo, giovane uomo e comincia la sua predicazione. Una predicazione che naturalmente avviene non nella mondanità della città, non nel rumore della folla, ma nel silenzio del deserto. Non perché si tratti di deserto nel senso letterale del termine, seppure zone desertiche vicino appunto al fiume Giordano dove poi appunto si svolge la predicazione e poi il battesimo di Gesù ci sono. Deserto è lo spazio simbolico del silenzio, lo spazio pronto ad accogliere la parola che annuncia la venuta di Gesù. Ecco che San Giovanni Battista è vestito di pelli, come appunto avveniva, era avvenuto anche per esempio per il profeta Elia, per gli altri profeti. In particolare San Marco ci racconta e ci dice che sono pelli di cammello, animale impuro, vestito ancora dell'impurità che invece sarà sanata con la venuta di Gesù, nell'atto di predicare. E naturalmente tutte le genti ci dicono appunto che venivano da tutta la Gidea, da tutta la città di Gerusalemme, una città simbolica che è accennata sullo sfondo, sono giunte per ascoltare la predicazione di San Giovanni. Non solo, vedete che alle sue spalle vediamo già l'arrivo di Gesù. Gesù vestito del classico diciamo binomio rosso come natura terrena, vestito diciamo quindi la sottoveste diciamo è rossa, natura terrena umana e il manto blu invece della natura divina e celeste che contraddistingue appunto la sua essenza divina umana al tempo stesso. Sì perché Giovanni seppure appunto individuato come davvero colui che avrebbe dovuto cambiare la storia, come sappiamo appunto annuncia che non è lui colui che cambierà la storia dell'uomo e anzi non è degno nemmeno di slacciare i sandali al nuovo venuto perché ci sarà chi verrà dopo di lui e salverà il mondo. Voi capite che quindi davvero su queste pareti si dispiega il mistero dell'incarnazione di Gesù ma anche della salvezza dell'uomo che così caro era non soltanto ai dominicani ma a tutta l'umanità del quattrocento e non solo. Ed ecco infatti che Gesù arriva nella terra degli uomini e Giovanni lo battezza non perché sia naturalmente necessario battezzare Gesù come tutti gli altri esseri umani che stava battezzando andando diciamo rinnovando la pratica invece dei sacrifici al tempio invece annunciando una nuova forma di purificazione tramite il battesimo ma proprio perché Gesù ormai fatto sì uomo passa tramite i riti dell'uomo. Ecco Gesù che quindi appunto viene battezzato da San Giovanni Battista nel fiume Giordano che come vedete e come forse Domenico Ghirlandaio già sapeva non è un fiume impetuoso estremamente largo ma un piccolo corso d'acqua che infatti ci viene come dire rappresentato. Inutile dire che appunto Domenico Ghirlandaio ha ben presente anche il battesimo di Masaccio nella Cappella Brancaccio di cui spero avremo modo presto di parlare. Guardate davvero i piedi nell'acqua trasparente diciamo durante l'atto del battesimo. In asse con Gesù non può mancare il Padre Eterno con la Columba, non possono mancare Padre Eterno e Columba con i suoi raggi dorati ma non mancano, ci dice appunto che a questo evento ci dice il testo sacro assistono tutti ed effettivamente tutti sono, cioè la Trinità, le schiere angeliche, vedete che gli angeli sono pronti a poggere i vestiti sempre rosso e blu al nostro Gesù e anche tutte le genti che vedete sono simbolicamente sintetizzate da queste figure da fogge, copricapi e fisionomie varie. Nonché appunto vediamo appunto altri uomini, altre figure denudate, pronte, che si stanno vedete slacciando appunto le calzature, pronte per il battesimo. Gesù qui è nudo, vestito soltanto di un panno bianco come è già avvenuto per la Trinità di Masaccio qualche decina di metri lontano e come avviene per le crocifissioni. È naturalmente l'annuncio del sacrificio che Gesù dovrà compiere per noi. Dopo appunto il battesimo, San Giovanni, Giovanni Battista appunto sappiamo essere, qui vediamo appunto la scena vista in modo un pochino ampio, più ampio, quindi vediamo la predicazione sulla destra, il battesimo sulla sinistra e l'ultima scena sommitale in alto. San Giovanni Battista, diciamo appunto, stavamo dicendo che è estremamente largamente apprezzato da tutte le genti della Giudea, suscita naturalmente le invidie e le ire dei potenti della zona, in particolare di Erodiade, che era moglie di Filippo e amante di Erode, tetrarca della Galilea e di Perea, due zone appunto di Israele. Ed ecco che quindi appunto durante un banchetto indetto da Erode che vediamo qui in centro, la figlia di Erodiade si slancia in una danza meravigliosa, la vediamo qui in primo piano, altro piccolo inserto da attualità rinascimentale, questo nano di corte, vedete abbigliato appunto come poteva avvenire nelle corti di rinascimento. Quindi la giovane Salomè, figlia di Erodiade, si slancia in una danza leggera, dopodiché quindi il re Erode, estasiato da questa danza, le chiede che cosa vuole avere in cambio perché tutto le sarà concesso a fronte di questa danza davvero paradisiaca. E Salomè, sobillata dalla madre, chiederà la testa di Giovanni. Ecco che quindi, per la tradizione del 29 agosto, San Giovanni viene decollato e la testa, la vedete qui, portata da un paggio, viene portata su un bacile proprio al cospetto del banchetto di Erode. Così si conclude nel martirio, diciamo, la vicenda apologetica, geografica di Giovanni Battista, che naturalmente diventerà santo e che naturalmente ha ormai segnato il cammino per la venuta salvifica di Gesù. Questo è il racconto che si dispiega nelle forme meravigliose e sublime di Domenico Ghirlandaio e Iuti sulla parete destra della Cappella Maggiore. Concludiamo con un ultimo cenno a San Giovanni, un San Giovannino come vedete, che è sulla parete di fondo, altro appunto architettura iconografica della Cappella, e dove vediamo appunto il piccolo San Giovanni che già vestito di pelli si accinge a muoversi nel deserto. Un San Giovanni che quindi viene celebrato non nel giorno della sua morte, nella sua decollazione di fine agosto, ma nel giorno della sua nascita, il 24 giugno, come è concesso soltanto a Gesù per il giorno del Natale e a Maria celebrato nella Natività dell'8 settembre. Ed è con questa immagine di un giovane fanciullo pronto ad affrontare tutto e tutti nell'annuncio salvifico dell'umanità che concludiamo questo racconto e soprattutto ci prepariamo ai festeggiamenti di San Giovanni Battista che ci attendono domani. E con questo appunto concludo. Perfetto. Grazie mille Valentina. Allora, prima dei saluti finali abbiamo ricevuto una domanda da parte di Valerio, quindi ti riporto. Molto specifica, dice che nel riquadro della visitazione che abbiamo visto prima, si vede in cielo un rapace che germisce un germano. Lo stesso motivo del rapace che cattura o mette in fuga altri volatili si ritrova spesso, secondo Valerio, in pitture dell'epoca. Chiedeva se aveva un significato particolare questa scena. Allora, è vero, intanto volevo fare la condivisione dello schermo per mostrarlo a tutti, intanto l'ho recuperato e questa la scena si riferisce appunto il nostro partecipante, acuto osservatore. Allora, non si sa in realtà, sicuramente era un messaggio importante, divenuta diciamo salvifica dalla barbaria, dal paganesimo, eccetera, quindi c'era un messaggio teologico importante. Altrettanto probabile è un riferimento alle cacce medici, a tutto quello che per esempio nella Cappella dei Magi abbonda e forse appunto il nostro interlocutore si riferisce anche a questo e quindi ai rapaci e ai volatili che appunto erano ben noti alla nobiltà fiorentina del tempo. Certezza non c'è e quindi appunto è una risposta parziale nel senso che quasi sicuramente appunto c'è un riferimento alla salvazione che si compie quindi dalla rapacità dal paganesimo con la venuta di Giovanni e poi di Gesù e altrettanto riferimento d'attualità come ricordavo appunto alle cacce tanto gradite alle famiglie nobili della Firenze del Tardo Quattrocento ma una certezza assoluta non c'è nel senso che come sapete purtroppo per ricostruire in maniera univoca ciò che non c'è più e ciò che non sappiamo più abbiamo bisogno di fonti e documenti e quindi in questo senso non abbiamo un riferimento univoco che ci come dire spieghi in maniera certa e indubitabile quello che è sicuramente probabile ma non certo al cento per cento. Spero di avere risposto. Perfetto. Grazie Valentina. Allora non mi pare ci siano altre domande lasciamo ancora 30 secondi se c'è proprio un'ultimissima curiosità se no direi che... Sì, volevo cogliere l'occasione appunto ricordavi dell'apertura dei musei segnalo che la chiusura delle prenotazioni si chiude appunto diverse ore prima quindi non è possibile farla da un momento all'altro peraltro è tutto già abbastanza completo quindi il suggerimento eventuale se volete visitare i nostri musei domani e di eventualmente provare a recarvi e vedere se c'è un posto libero. Altrimenti ricordiamo sabato e domenica lunedì con la CAB del Fiorentino per un anno è possibile visitarli. Domani quello che mi faceva piacere ricordare insieme a voi è una giornata speciale non solo per Firenze ma per altre città. Abbiamo appunto fra noi anche Castel San Giovanni quindi San Giovanni Valdarno ma anche grandi città cioè Firenze, Genova e Torino che si sono riunite quest'anno per la prima volta per un San Giovanni per tre e quindi in forma digitale sulla RAI trovate tutti i riferimenti appunto avrete la possibilità, avremo la possibilità di seguire un programma con grandi nomi per Firenze per esempio Carlo Conti, Irene Grandi ma anche Padre Bernardo di San Mignato e quindi ci riporterà appunto alla spiritualità di San Giovanni e quindi appunto li invito a seguire appunto se vorrete in maniera speciale questa giornata di un anno speciale che è diverso da tutti gli altri quindi dai tradizionali fuochi che contraddistinguono San Giovanni. Perfetto, nel frattempo è arrivata un'altra curiosità che ti giro se sai quanti interventi di restauro ha avuto la Cappella Tornabuoni? Se li ha avuti? Allora, sì ne ha avuti, ne ha avuti diversi, non so dire quanti esattamente direi non recentissimo, si vede ora per esempio anche, ora io vedo lo sfondo di Lorenzo appunto si vede che naturalmente alcuni dipinti sono più alterati di altri sicuramente ben conservato perché Giovanni, perché Domenico Bigordi dell'Irlandaio era un ottimo frescante quindi ha realizzato l'opera a buon fresco però con alcuni diciamo appunto naturalmente cadute di colore nel tempo quindi ne ha avute diverse già nel 500 e nel 600 proprio perché gli interventi sulla Chiesa sono stati continui. Possiamo però appunto sicuramente riguardare esattamente il numero per la nostra interlocutrice ed eventualmente poi rispondere via mail per dare proprio la cronistoria esatta. Ok, allora grazie mille Valentina di questa bellissima spiegazione grazie a tutti voi che siete stati qui anche oggi con noi speriamo di avervi tenuto compagnia, di avervi raccontato qualcosa di interessante l'appuntamento è per martedì prossimo ancora con Valentina sul Chiostro Grande di Santa Maria Novella terzo appuntamento dedicato a Santa Maria Novella da domani via mail si possono fare le prenotazioni per martedì prossimo sempre alle 18 a questo punto apriamo i microfoni se volete saluto finale buon San Giovanni a tutti per i Fiorentini ovviamente per domani e ci vediamo la settimana prossima Grazie 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 Arrivederci 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 Grazie Grazie Complimenti, complimenti vivissimi Complimenti davvero Grazie Grazie mille Grazie a tutti Ci vediamo martedì prossimo Un saluto Grazie Grazie